salve a tutti tra qualche momento andrà in onda il podcast di oggi alla locanda della tormenta si presentano i nani stirpe di popolo del folclore germanico e nordico in generale legge per noi questa volta doldeimus excel sottotitoli automatici forniti da youtube e testi tratti da wikipedia vi auguro un buon ascolto bentornati ai miei dolci e cari ospiti della locanda della tormenta come sentite bisogna sempre essere un pochino deficienti ora è giusto che voi vi sediate attorno al fuoco e possiate godervi la storia del folclore del popolo dei nani e se posso aggiungere una cosa viva i nani forever and ever i nani nelle mitologie dei popoli germanici sono creature che dimorano nei monti e nel sottosuolo noti per essere grandi fabbri e minatori sono descritti simili ad umani tozzi e di dimensioni ridotte sebbene alcuni studiosi hanno avanzato l'ipotesi che possa essere uno sviluppo in epoche successive mitologia norrena nella mitologia norrena sono descritti come esseri legati alla terra con una tale abilità quali fabbri ed orefici da poter realizzare manufatti straordinari in grado di conferire portentosi poteri magici ad essi potevano anche avere il ruolo di spiriti della natura similmente agli elfi della luce ilios alfar il che può suggerire il motivo per cui acquisirono il nome di elfi neri svartalfar sebbene quest'ultimi due termini sono presenti solo nell'edda in prosa e nei testi successivi basati su di essa al pari di divinità minori i nani norori suori austri e vestri avevano il compito cosmologico di sostenere i quattro punti cardinali ni e nioi governano rispettivamente la luna crescente e la luna calante la loro dimora era il reame sotterraneo di nida velir uno dei nove mondi legato secondo la cosmologia della mitologia norrena al frassino del mondo l'igdrasil erano generalmente considerati egoisti avidi e astuti erano i creatori della maggior parte degli artifatti degli dei sia esir che vanir tra le loro creazioni più famose ci sono la lancia gungnir e l'anello d'oro draupnir di odino e il martello miolnir di thor i capelli d'oro di sif il colare brisingamen di freia ed anche la nave schioblaunir di freir i nani fabbricarono anche certi tipi di elmetti o a volte un mantello che potevano rendere chi li indossava invisibile nota dell'oste questi elmetti avevano un nome ma assolutamente non riesco a pronunciarlo scusate genealogia la generazione dei nani viene trattata nella voluspa parte dell'edda poetica secondo essa la stirpe dei nani si formò sottoterra dove presero vita come vermi nella carne morta del gigante imir odino e di suoi fratelli vili e vè riuniti in un consiglio diedero a queste creature un aspetto antropomorfo e l'intelligenza i nani allora andarono ad abitare nella terra e nel fango nonché nella pietra e fra le rocce andarono allora gli dai tutti ai troni del giudizio divinità santissime e su questo deliberarono chi dovesse dei nani le schiere foggiare dal sangue di brimir e dagli ossi di blind dalla voluspa edda poetica profezia della veggente i nani allora presero dimora nella terra molla e nel fango tra le pietre e le rocce mosognir era il più famoso tra di loro e un altro aveva nome durin anche questi erano nani e abitavano nelle rocce quelli nominati per primi invece nel fango da ledda in prosa di snorri sturluson l'origine dei nani secondo ledda in prosa differisce leggermente essi si generarono dal sangue del gigante imir non dalla sua carne morta alcuni nani menzionati nella voluspa alvis alvis aveva stretto un patto con gli dèi in cambio delle armi che avrebbe fabbricato gli era stata promessa in sposa bruor figlia di thor thor progettò un piano per impedire ad alvis di sposare sua figlia gli disse che a causa della sua bassa statura avrebbe dovuto provare la sua saggezza alvis si disse d'accordo e thor fece durare la prova fino al sorgere del sole sì che alvis rimase pietrificato e trud non dovette sposarlo and vari and vari viveva sotto una cascata ed aveva il potere di mutarsi in luccio a volontà possedeva un anello magico chiamato and varnautr che lo manteneva ricco nella versione di richard wagner è conosciuto come alberic lochi lo catturò di sorpresa con una rete fornita da ran e lo obbligò a consegnarli and van outr e il suo oro and vari gettò una maledizione sull'anello in modo che distruggesse chiunque lo possedesse conducendo inevitabilmente a molte sfortune brock e sindri brock e sindri sono due fratelli lochi riuscì ad ottenere i capelli di sif schioblaunir la nave di freir gunnir la lancia di odino forgiata dai figli di valdi e scommise con brock mettendo in palio la propria testa che suo fratello sindri non sarebbe riuscito a produrre oggetti di pari valore sindri allora lavorò alla sua fornace mentre suo fratello pompava sui mantici ma una mosca a volte ritenuta lochi stesso iniziò a pungere brock cercando di fermarlo e di fargli rovinare gli oggetti sindri riuscì nell'impresa creando l'anello d'oro draupnir il cinghiale d'oro gullimbursti e il martello mjolnir anche se quest'ultimo con un'impugnatura più piccola di quanto non avrebbe dovuto essere brock vinse la scommessa ma lochi non gli permise di prendergli la testa poiché così facendo avrebbe ferito il suo collo che non era incluso nella scommessa dvalin dvalin era il signore dei nani ed uno dei più potenti di essi famoso principalmente per aver portato fra i nani le rune egli aveva anche creato la parrucca d'oro di sif gullim la lancia di odino schioblaunir la nave di freir la spada magica tirfing e con l'aiuto di alfric berling e greer brisingamen l'incredibile collare di freia freia ripagò tutti e quattro gli artigiani con quattro notti nel suo letto fialar e galar fialar e suo fratello galar uccisero kvasir e trasformarono il suo sangue nell'idromele della poesia che ispirava i poeti fialar e galar uccisero poi un gigante chiamato gillingr insieme con sua moglie ma il loro figlio sutung cercò i suoi genitori e minacciò i due fratelli che gli offrirono l'idromele magico sutung lo prese e lo nascose al centro di una montagna dove lo sorvegliò con sua figlia gunlo odino decise infine di ottenere l'idromele per una intera estate lavorò al servizio di baugi un contadino fratello di sutung quindi chiese in cambio un singolo sorso di idromele baugi perforò la montagna ma odino cambiò forma in un serpente e si introdusse all'interno dentro gullo stava di guardia ma si lasciò convincere a lasciargli bere tre sorsi odino beve tutto l'idromele mutò forma in aquila e allora scappò influenza culturale nani nelle opere tolkieniane jr r tolkien era un ottimo filologo pertanto si presume conoscesse il catalogo dei nani attestato nei testi norreni i 13 nani che fanno visita bilbo baggins all'inizio de lo hobbit ovvero balin dualin chili fili dori nori ori oin gloin bifur bofur bombur e torin hanno nomi che derivano dalla versione del catalogo contenuta nell'edda in prosa solo il primo nome balin è stato inventato da tolkien gli altri li ritroviamo tutti si può ancora aggiungere che il nano torin era chiamato scud di quercia ed è infatti questo il significato del nome di un altro dei nani eddici e kinscaldi anche durin capostipite dei nani lunghe barbe si ispira profondamente nel nome del norreno durin anche gandalf lo stregone che giunge a casa di bilbo assieme alla numerosa compagnia deriva il suo nome da quello del nano gandalf che significa elfo incantatore in norreno gandr è parola legata alle pratiche magiche e incantatorie e con questo miei cari ospiti sono anche riuscito a portarvi il podcast sui nani spero che vi abbia interessato l'argomento l'immagine che potete vedere nella locandina e durante il video è memedesimo excel nel mondo di world of warcraft il vostro host excel vi saluta vi ricorda che potete iscrivervi alle pagine facebook e instagram per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e che potete aiutare la locanda con una donazione su ko-fi e paypal un saluto dal vostro host e ci sentiamo al prossimo podcast